Crisi aziendali, malattia e perdita del lavoro sono i principali motivi che fanno scivolare soggetti in difficoltà in mano all'usura, un fenomeno da contrastare che è in aumento anche a causa del post-pandemia e del caro energia. Difficile venirne fuori da soli, ben diverso, è con l'aiuto della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'usura che ha lanciato la campagna Non sei solo con i tuoi problemi economici, un'ancora di salvezza a cui aggrapparsi per uscire da situazioni spiacevoli. La Fondazione dispone di 19 milioni a cui si somma un milione e mezzo della regione. Gli sportelli di ascolto in tutta la Toscana sono costituiti da volontari esperti che fungono da tramite con le banche grazie a prestiti o mutui a seconda degli importi fino a 200 mila euro. In 18 anni di attività la Fondazione ha aiutato quasi 2400 persone o famiglie ad ottenere in tutto 118 milioni per venire fuori da situazioni debitori o di ricatto. Il problema è che non siamo adeguatamente conosciuti, noi siamo un organismo di puro volontariato in grado di sostenere concretamente le persone che si trovano in difficoltà finanziarie, famiglie e piccoli imprenditori. Rilasciamo delle garanzie alle banche per consentire un'agevolazione della concessione dei finanziamenti.